Un salutone a tutti gli amici dell'Italia, alla famiglia di Lino, il grande Lino, mamma Teresa, papà Antonio e soprattutto ad Alberto, un saluto Alberto. Albertone, un abbraccio, un bacio. Seguite il 7 settembre Pechino Express, ci sarà da divertirsi. Può fare il mio manager? Basi quasi vado a lavorare con lui. A me serve in Italia, vi prego, portatemelo qua, lasciatemelo qua. Ciao, ci vediamo presto, io ritorno, forse anche lui. Ciao.